Ancora tu? Cosa vuoi? Eulogy è alquanto selettivo su chi inserire nell'equipaggio di Paradise Falls. Ma forse possiamo trovare un accordo che favorirebbe entrambi, proprio io e te. Può darsi che tu sia la persona adatta qui nei paraggi. Eulogy ha uno speciale contratto su alcuni VIP. Un'altra cosa. Ho questo Mesmetron. È una sorta di immobilizzatore. Tu prendi questo Maser e spari su qualche povero bastardo. Fa attenzione con quel collare. Se lo maneggi esploderà. Hai capito tutto? Odio ripetermi. Quel Mesmetron ha portato una sorta di manuale. Non ho tempo per queste stronzate, quindi spero che tu sappia come leggerlo. Puoi dire a Tempenni che mi baci il culo? Abbiamo un sacco di tappi. Dannazione, fammi entrare. Per quanto dobbiamo continuare ancora, non puoi entrare. Posso passare tutto il giorno a insultarti attraverso questo dannato affare, se devo. Ti ho già detto che Tempenni non permetterà che degli zombie vivano qui. A chi diavolo hai detto, zombie? Di sicuro non fai parte degli umani, questo è certo. Per l'ultima volta, gli zombie non possono entrare. Non riesci a distinguere tra me e un goal feroce? Bene, ti farò vedere io che differenza c'è. Vedrai. Avrai quello che ti aspetta. Ehi, ciao. Credevo di averti detto di andare al diavolo. Tempenni non vuole i tuoi fottuti tappi e io non voglio che mi venga mal di testa. Per l'ultima volta, porta il tuo orrendo culo putrido da Ghoul fuori dalla proprietà privata del signor Tempenni. Cosa? No, solo quei dannati Ghoul. Mi dispiace, mi devo fossi uno di loro. Culo o no, ti informo che stai violando la proprietà privata di Alistair Tempenni. Sono ammessi solo inquilini e il personale è autorizzato. Questa è bella. Cosa se ne farebbe un uomo come il signor Tempenni di un topo di fogna come te? A solo un minuto non siamo affrettati. Se il Tempenni interessa quello che hai da dire, è giusto che tu abbia un'opportunità. Però normalmente giustisce tutte le sue attività tramite il signor Borg. Se Tempenni non vuole parlarvi, faresti meglio a lasciarli un'ace. Se infastidisci il signor Tempenni o i rispetti, sarò lieto di accompagnarti all'uscita con la forza. Ci siamo capiti. Bene. Io non mi sento tanto bene. Ok, ehi, questa cosa mi dà una strana sensazione. Posso togliermela adesso? Oh, sembra doloroso. Oh, da che parte è Paradise Falls? Sto morendo di fame. Assalto! 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 Ben fatto, ragazzo. Vediamoci vicino all'entrata anteriore. Ho per te qualcosa che impedirà ai feroci di marderti il culo. Vediamoci vicino. Ben fatto. Ecco, prendi questa maschera. Ti terrà al riparo dai feroci. Non ti avvicinare troppo a loro o ti spazzeranno via. Non dimenticare di mettertela. Vedo che mi piacerà. Dovevi spararmi. Andate, guarda. La vicina sarà per non fuori. Mori, mori. Pensavi di poter rimpastire. Maori, stronsa! E' da molto che non mi faccio una bella battag- E' da molto che non mi faccio una bella battaglia Sì, vieni qui, ti sfido Fido, pensavi di poter infastidire Gull, vero? E' da molto che non mi faccio una bella battaglia Non c'è ancora di più roba da me Sì 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 Ehi là, amico. Grazie ancora per averci aiutati a entrare qui. Molto meglio della zona contaminata e dei sudici cunicoli. Questo è dannatamente certo. Grazie. Grazie. Grazie.